Eccoci al Casino di Campione dove si sta svolgendo l'Ipo10 Special Edition sponsorizzato da TitanBet.it Ci siamo lasciati giovedì con il Day 1C e ora il Day 2A Andiamo a vedere le immagini e il chip count dei top players presenti Marco della Monica, Team Pro Bet Italy, 57600 chips Antonio Bernardo, Team Online SNAI, 159.800 Fausto Ioli, Team Pro SNAI, 216.000 chips Valeria Bergomi, 117.200 Giorgio Bernasconi, 90.600 chips Carlo Savinelli, 248.700 Angelo Riccio, Team Pro Juego, 97.700 chips Gerardo Muro, Team Pro SNAI, 41.700 Stefano Francesconi, 156.500 Walter Treccarichi, Team Pro Gold Bet, 38.700 chips Erika Bibo, Kovac, 95.400 chips Gianluca Mattia, Team Pro 1.128, 252.100 chips Gabriele Lepore, Team Pro SISAL, 50.800 Marco Bognanni, Team Pro Enjoybet.it, 198.200 chips Giovanni Salvatore, 118.700 Robi Begni, 70.500 chips 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 Robi Begni, 70.500 chips